per rompere il silenzio di gran parte delle istituzioni culturali e la parzialità dell'informazione. Campo Innocente e Auri hanno scritto una lettera, firmata da oltre 3.000 artisti, che può essere usata come strumento per portare la questione, rompere la censura e sostenere la causa palestinese. Avremmo voluto condividere con la questione,